avere fede vuol dire rischiare affidarsi completamente a gesù così papa francesco durante la messa celebrata nella cappella della casa santa marta commentando il vangelo del giorno il pontefice ha rimarcato che nella vita bisogna osare per trovare la vera speranza e in questo le donne dimostrano di essere brave e che camminando dietro gesù poco alla volta anche la purezza dell'intenzione diviene meno imperfetta ma mai ha proseguito restare fermi al balcone ad aspettare i fermi quelli che erano all'orlo del cammino guardavano erano seduti e proprio seduti erano seduti la alcuni scrivi questi non seguivano guardavano guardavano dal balcone non andavano camminando la propria vita balconavano la vita proprio lì non rischiavano mai soltanto giudicavano erano i puri non si mischiavano e anche i giudizi erano forti no nel suo cuore ma che gente ignorante che gente superstitiosa e quante volte noi quando vediamo la pietà della gente semplice ci viene in testa quel clericalismo che fa tanto male la chiesa